Uno. Io sono uno studente sano. Due. Io sono un viaggiatore felice. Tre. Lei è un ragazzo basso. Quattro. Io sono una ragazza bella. Cinque. Io sono uno studente sveglio. Sei. Lei è uno studente sano. Sette. Lei è un pianista attraente. Otto. Loro non sono studenti svegli. Nove. Noi siamo calciatori sani. Dieci. Noi siamo ragazzi divertenti. Chi. 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 Grazie a tutti